Oggi siamo su una riunione molto più pratica delle precedenti, in cui chi vuole mi può seguire con un computer, chi vuole mi può seguire con lo smartphone, chi vuole mi può seguire basta, senza niente in mano, perché tanto quello che vi spiego sarà facilmente riproducibile una volta che voi siete a casa e volete provarci. Sì, di base negli scorsi due incontri abbiamo parlato sia del cloud computing, quindi del fatto che adesso, a differenza che negli anni, diciamo fino a 5-6 anni fa, tutto quello che è software, storage, cioè memoria di dati, file, cose vostre, non è più tendenzialmente sul vostro computer, ma è su internet, su server con vari sistemi di backup e modalità di accesso, per voi, e quindi parliamo delle conseguenze di questo principio, cioè non dovete più preoccuparvi dell'hard disk del vostro computer, dello sbalzo di tensione elettrica che può farvi fulminare il computer, farvi perdere tutti i dati, vi dovete preoccupare di altre questioni di sicurezza, di cui abbiamo già parlato, per l'accesso a questi grandi cloud di informazioni, ma anche a livello di programmi, quindi di cose che utilizzate per fare cose, strumenti, anche a quel livello lì, non dovete più tanto pensare al software che vi siete installati sul vostro computer e che avete acquistato nel negozio di informatica sotto casa, ma dovete pensare più che altro a applicativi web, cioè applicativi software esattamente come erano prima, ma che lavorano online. Quando ho pensato a questa serie di lezioni, diciamo che sono partito da una considerazione economica e di accesso. Io ovviamente non ho interesse a fare pubblicità a nessuna multinazionale e a nessuna grande società che fa software, ma quando si trattava di ragionare su, facciamo un corso su come fare un documento tipo Word, quindi testuale, oppure come facciamo un documento tipo Excel con fogli di calcolo o una presentazione come era PowerPoint, la prima cosa che mi sono chiesto è stata dove lo faccio fare senza che tutti siano costretti ad avere almeno una licenza che attualmente costa 69 euro all'anno, che è un prezzo onestissimo, anche questa include tutta una famiglia di software che fanno tutte le cose che vi elencavo prima, e il famoso Office, quindi presumo che più o meno tutti voi abbiate avuto a che fare con Office. Come? No, 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 è vero. Ok. Devo Office 365. Sì, sì, Office 365 Personal, perché ovviamente ci sono tantissimi piani, però tendenzialmente, da quello che mi risulta sotto i 30 euro all'anno, non riuscite ad avere una copia, diciamo, licenziata, cioè ufficiale del programma Microsoft. Per farvi questo corso io volevo trovare qualcosa che fosse gratuito, cioè che chiunque possa avere senza spendere nulla per fare sia testi che tutto quello che dicevamo, quindi presentazione, fogli di calcolo. Esiste da parecchi anni, direi decenni, una versione gratuita di Microsoft Office, che è OpenOffice, che qualcun altro di voi avrà conosciuto. Questa è, si basa sul concetto di community e di open source, quindi è una comunità di smanettoni e di informatici che scrivono codice, lo mettono a disposizione gratuitamente, ha le stesse funzionalità che ha la suite, diciamo, di Microsoft, quindi avete Writer, che è il corrispondente di Word, avete Calculator, mi sembra, che è il corrispettivo di Excel, avete tutti i programmi, diciamo, ombra dei programmi di Microsoft, che fanno le stesse cose in maniera piuttosto simile ed è gratuito. Anche in questo caso, come nel caso di Office, ve lo salvate sul vostro computer, lo installate, se avete un Mac avete un file DMG, se avete un Windows avete un file EXE, fate doppio clic, installate, avete il programma, lo utilizzate. Qui non c'è differenza di Microsoft, il bisogno di mettere una licenza, c'è un codicino lungo che, come dire, conferma il fatto che voi l'abbiate pagato e potete utilizzarlo, salvare i vostri file, eccetera. L'ultima alternativa, che è quella di cui vi parlo oggi, è la suite degli strumenti invece di Google. Google è nato, e molti di voi lo sapranno, come motore di ricerca, è stato uno dei primi motori di ricerca, ma soprattutto è diventato il motore di ricerca che funzionava meglio di tutti gli altri, grazie all'algoritmo che ci stava dietro. Da una ventina d'anni è protagonista nello scenario del mondo digitale e ha sviluppato tutta una serie di strumenti, alcuni, cioè con alterne, diciamo, fortune. Ce ne sono alcuni, come Gmail, che è la casella di posta di Google, che funzionano benissimo e hanno avuto delle riduzioni di dimensione, perché inizialmente mi sembra avesse 50 giga o addirittura spazio illimitato, oggi ha 15 giga di spazio, è una cosa che commentavamo in uno degli scorsi incontri. Però su Gmail sono cresciute tutta una serie di altre funzionalità e di altri software. Ci sono anche stati, diciamo, degli esperimenti sfortunati di Google che ha fatto, per esempio, un social network che era G+, che è stato abbandonato insieme ad altri progetti. Non ce ne occupiamo, ovviamente, ma ci concentriamo sul magico mondo di... Aspettate che vado sulla mia casella di posta personale, sul magico mondo di Gmail. Ora, anche la presentazione di questo corso che ho fatto nelle scorse lezioni l'ho fatta con il programma presentazioni di Google G Suite, si chiamava, adesso si chiama Workspace, ma non importa, sono le app di Google. L'ho interamente fatta qua invece che su PowerPoint per rimanere coerente con quello che vi sto per raccontare. Qui siamo sulla mia Gmail personale. Vedete, cliccando questi quadratini, che c'è tutta una serie di iconcine che richiamano altri servizi. C'è l'account, che ovviamente sono tutte le informazioni che riguardano me. Avete la ricerca, che è il Google che tutti conosciamo per cercare qualsiasi parola. Mappe, che vi è molto utile se avete, per esempio, il cellulare che si connette con l'automobile o se semplicemente se state facendo i turisti in un'altra città volete mettere un indirizzo, vi fa da navigatore. YouTube è un social network, non ne abbiamo parlato, ma ovviamente un social network di video dove potete vedere video e fare anche lì delle ricerche con parole chiave per trovare dei video pertinenti a quello che cercate. Ci sono i nostri corsi. Ci sono i nostri corsi su YouTube, non ho ancora capito dove, ma ve lo dio, nel senso che appena ho il link possiamo condividerlo nel sito Abnut, ok? Poi abbiamo Play, che invece è, diciamo, un app store. Chi ha un iPhone sa che c'è l'Apple Store dove può scaricarsi tutte le app. Chi ha Android sa che c'è questo store qua. Gmail è la casella di posta, che è quella che state vedendo. E poi ci sono quelli che ci interessano di più, che sono Drive, soprattutto, calendario, e poi queste simpatiche icone che sono documenti, fogli, qui sono in ordine un po' sparso, presentazioni, e l'ultima dove finita, moduli. In questa lezione, nella prossima, vi parlo di queste app, di queste quattro app. Oggi, diciamo, quelle più seriose, che sono il corrispettivo di Word e il corrispettivo di Excel, e quindi fogli di scrittura e fogli di calcolo. La prossima volta, le presentazioni, che è il corrispettivo del PowerPoint di Microsoft, quindi che vi permette di fare delle presentazioni, e i moduli che vi permette di fare dei sondaggi, o dei test online che vogliate fare, o dei form che, non so se... Faccio fatica a immaginarmi il vostro utilizzo in tal senso, perché, per esempio, se foste un negozio, un'azienda, che produce qualcosa, e volete chiedere ai vostri clienti che particolare caratterizzazione vorrebbero sulla nuova edizione di quel qualcosa, avrebbe più senso usare i moduli. Nel caso di un privato cittadino, o di una persona che utilizza il computer a scopi personali, trovo che possono essere più utili doc e fogli, perché banalmente sono quelli che vi permettono di scrivere gli elenchi di cose da fare, o i progettini di cose da organizzare, ma almeno sapete che ci sono anche gli altri. Breve panoramica, anche delle prevalenti altre, sono, vabbè, gestore delle password, che vi può essere utile, perché aiuta nel senso dell'altra cosa che dicevamo la scorsa volta, dovete avere una password diversa per ogni servizio online che utilizzate, deve essere una password complessa, così è sicura, dovete ricordarvele tutte, come si fa a ricordarsene tutte? Ci sono questi chiamati vault, che sono dei sistemi online che le memorizzano. Poi c'è il problema dei furti di dati, da chi memorizza tutte le password, che è una cosa che per esempio su questo sistema era il successo che MyPass era proprio una cassaforte di password che ha subito un data breach, quindi ha un furto di dati, ma vabbè, non entriamo troppo nel, come dire, nel disperante. diciamo che appunto per utilizzo professionale c'è Google Ads che non vi spiegherò, ma se vi interessasse posso darvi una panoramica, che è il modo per fare pubblicità su Google quando si fa la ricerca di un vostro sito. C'è anche un modo di fare siti gratuiti con Google, c'è una specie di editor di siti che fa parte di queste app gratis. Sites, sì. Ci sono passato sopra, non l'ho visto. Vediamo, vabbè. Comunque c'è, poi al massimo ve lo recupero. Ed infine ci sono Drive, che è diciamo un po' il vostro folder, la vostra cartella su Google con tutti i vostri contenuti e i due programmi che vi dicevo, Fogli e Doc. Che cosa serve per poter utilizzare tutti questi software? Allora, intanto li potete usare anche su smartphone perché ci sono le app. Quindi, quello che voi potete fare sul computer lo potete fare anche sul cellulare. Ovviamente è più scomodo per una questione di dimensioni, ma su quello, se volete, potete comprarvi le tastierine e usare il cellulare come se fosse un tablet. Mi diverto sempre a ricordare che un iPhone 6, e adesso siamo all'iPhone 15, mi sembra, l'iPhone 6 era 120 milioni di volte più potente del computer che ha gestito la missione Apollo. Quindi, in teoria, un iPhone ha un potere computazionale sufficiente a gestire 120 milioni di navicelle che vanno sulla Luna. Quindi, riuscirà anche a farvi un documento di testo senza che vi preoccupiate troppo. Nonostante questo, adesso i cellulari, cioè gli smartphone, hanno dei problemi con l'intelligenza artificiale di cui parlevamo le altre volte perché quelli invece richiedono più potenza computazionale di quella che hanno attualmente gli smartphone. Per darci un'idea di impegno nell'utilizzo dei software. Quindi, per usare e giocare con ChatGPT e chiedergli come la scorsa volta se Dio esiste, dobbiamo avere una potenza di calcolo superiore ai 120 milioni di volte quella che è servita per arrivare sulla Luna. Detto ciò, Google Drive voi lo potrete usare sullo smartphone esattamente come sul computer. Inutile dire che essendo su cloud che voi lo usiate sul computer a casa, sul computer in ufficio, sul computer al bar che ha l'Internet Point o sul cellulare, voi agirete nello stesso spazio. quindi non c'è più la corrispondenza fisica del computer su cui state lavorando. Nel momento in cui voi aprite un documento quel documento è nel vostro spazio cloud. Quindi, da ovunque voi accediate con il vostro nome utente e la vostra password voi accederete alle vostre informazioni. Una cosa che potete fare per esempio con Drive vi faccio vedere questa è l'interfaccia di Drive ovviamente sono all'86% di spazio anche se il mio personale non è quello di lavoro adesso facciamo finta che vada tutto bene avete un elenco di file che avete salvato che sono vostri che sono condivisi da altri e quindi che voi vedete anche se non li avete creati voi e che banalmente funzionano così. Se voi avete un file sul vostro desktop e volete salvarvelo nel vostro spazio su Drive lo prendete lo trascinate sopra vi spiega rilascia il file per caricarle su il mio Drive lo lasciate viene caricato e il vostro file è nel vostro Drive lo potete ovviamente organizzare esattamente come sul vostro computer in cartelle lo potete visualizzare con delle anteprime oppure direttamente con un elenco e qui avete poi tutte le informazioni che vi possono servire sul vostro Drive stavo dicendo l'unico requisito per avere Drive e per avere tutte queste app è avere una casella di post a Gmail io sono partito avendo sia come lavoro che come casella personale una Gmail facendovi già vedere come si vedono questi applicativi qualcuno di voi utilizza una casella Gmail o vi sto parlando arabo ok quasi tutti chi non ha una casella Gmail sappia che vado su navigazione in incognito andando su gmail.com dovrebbe esserci creare un account per uso personale nel nostro caso penso sia quella più più rilevante per mio figlio è in caso di minorenni perché per avere una casella di post bisogna essere maggiorenni ma si può anche fare per minorenni per lavoro è perché poi vi porta in strada verso la Google non si chiama più Google Workspace no adesso si chiama Google Workspace prima si chiamava Google Suite comunque gli stessi servizi che vi facevo vedere prima a pagamento è un po' più premium comunque se non avete Gmail qui mettete il nome il cognome che cosa volete come indirizzo che può essere corrispondente nome e cognome o quello che volete se è già occupato vi faranno aggiungere un numero vi daranno suggerimenti eccetera però vi create la vostra casella di posta la casella di posta la vedrete tendenzialmente così quindi con poste in arrivo speciali scrivi questo è abbastanza simile a qualsiasi casella di posta voi usiate vi parlavo di Gmail semplicemente per dirvi è gratis anche la casella la potete aprire avete 15 gigabyte di spazio ed è un buon punto di partenza avrete il calendario perché una cosa carina di Google è che vi mette a disposizione tra queste varie app anche il calendario e avrete appunto Drive che è il centro della nostra discussione di oggi dunque quindi su Drive voi avete diversi tipi di file ci potete caricare immagini video doc word tutta una serie di file abbastanza ampia che non dovrebbe darvi problemi diciamo di archiviazione diciamo che poi vediamo che cosa potete creare partendo dal word di Google che si chiama documenti in italiano o sembra document in inglese molto banalmente in questo caso voi vi troverete in un'interfaccia di questo tipo qui ci arriviamo o da qui cioè dal Drive sempre andando sui quadratini che indirizzano le app oppure sempre nello stesso posto anche dalla casella mail quindi andando su documenti ci troviamo in questa pagina complessiva dove abbiamo l'elenco di tutti i documenti di questa tipologia che sono nel vostro Drive quindi è come se aveste già una selezione di tutti i word archiviati da parte vostra nel Drive complessivo avete indistintamente ma con la possibilità di vedere quali sono gli uni quali sono gli altri quelli creati da voi quindi di vostra proprietà oppure quelli creati da altri non di vostra proprietà perché nel momento in cui e fra poco ve lo faccio vedere create un documento voi potete condividerlo con altri utenti che hanno Gmail questa cosa è molto molto interessante si può fare anche con le ultime versioni di Microsoft Office quello che vedevamo prima il 365 però normalmente a livello business enterprise quindi con licenze a pagamento sulla versione con licenze più care non a pagamento perché anche quelle per uso personale sono a pagamento qui invece ce l'avete anche a livello gratuito se voi avete amici familiari collaboratori quello che volete che volete coinvolgere su un documento che state facendo basta che vi faccio poi vedere come lo condividiate al loro indirizzo mail e loro facendo la stessa cosa che fate voi cioè entrando in documenti dal loro browser potranno vedere il documento che voi avete creato e voi deciderete che lo possano solo vedere e non toccare oppure che lo possano vedere e ci possono scrivere possono editarlo possono modificarlo in questo modo voi anche in tempo reale potete scrivere un testo a quattro mani vi faccio un esempio molto creativo state scrivendo un racconto a quattro mani con un vostro amico o una vostra amica scrivete un capitolo voi un capitolo loro cioè un capitolo l'amico di penna e sullo stesso documento potete andare avanti così aggiungendo commenti su quello che ha scritto l'altra persona in realtà anche modificando quello che ha scritto l'altra persona ma per quello c'è poi tutta la storia delle revisioni quindi potete risalire a chi ha fatto cosa quindi qui potete filtrare i documenti di vostra proprietà che sono quelli creati da voi o non di vostra proprietà che sono quelli creati dagli altri oppure ordinarli in base all'ultima data di apertura in ordine alfabetico anche qui visualizzarli a elenco oppure a griglia oppure creare delle sottocartelle se avete dei progetti specifici tutto questo diciamo è molto simile a quello che prima facevate sul vostro computer ma è su questo cloud di google ci sono anche una serie di modelli che possono essere assai utili cioè questa cosa è praticamente identica anche dall'app adesso io non ho modo di condividervi sullo schermo il cellulare ma tendenzialmente scaricandovi le app non vedrete un granché ci sono le iconcine che sono esattamente identiche lo faccio vedere a favore di schermo per la registrazione che sono praticamente identiche alle icone che vi trovate qua nei quadratini tipo questa di documenti aprendoli e loggandovi con la vostra mail potete fare le cose che vi sto raccontando anche sul cellulare sì sugli app store del cellulare quindi sì oppure proprio fogli e documenti poi di solito io non so ho sempre apple quindi non so come funzioni su android ma su android dovrebbe esserci anche la casa cioè il produttore google e le vedete tutte tutte quelle che ha fatto e quelle che vi interessano che quindi possono essere foglie e doc avete tutta una serie di modelli quando vi trovate nel aprire un nuovo file che è quello che vi faccio vedere adesso potete partire dal documento vuoto che di base è la cosa più frequente e più utile perché partite dalla pagina bianca di word oppure e anche questo è molto simile a word in realtà vedere tutta una serie di possibili preimpostazioni grafiche faccio un esempio su vabbè sul lavoro ci sono delle brochure ci sono tutti questi tipi di layout da cui partire che hanno degli stili per cui vi faccio poi vedere di che cosa si parla vi permettono di fare una formattazione del testo più veloce e più facile ma adesso lo vediamo prendiamo le ricette corallo che vuol dire che invece di partire da un file vuoto partiamo da un file modello dove cambiate i testi ma sono già impostati su due colonne e hanno già degli stili che vuol dire qual è il font che si utilizza qual è la dimensione qual è il colore a seconda di che cosa qual è la funzione di quel testo cioè se è un titolo se è un paragrafo se è un sottotitolo eccetera in questo caso vi vedete qui se voi volete fare una ricetta avete solo qua da sostituire la foto qui da sostituire il testo con quello che voi volete come testo il titolo con quello che volete come titolo e molto differente da tutti gli altri casi di diciamo lavoro sul vostro computer con word o simili è che se notate non c'è un salva non c'è un salva perché ci sono tante voci c'è scarica ma non c'è salva perché in automatico in tempo reale se siete connessi il vostro file continua a essere salvato sul cloud quindi non rischiate quella cosa che era il mio incubo quando scrivevo la tesi tanti tanti anni fa che era di andare avanti la nottata di preso benissimo a scrivermi il capitolo e poi per qualche motivo salta la luce e mi sono dimenticato di salvare quattro ore prima e quattro ore di bla 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 scheriti si perdono nel nulla poi non era proprio così perché anche anche sul computer fisso con il programma lì tendenzialmente un po' di recupero può esserci se non proprio in casi disperati tipo la luce che salta diciamo che tutto questo è abbastanza superato dal fatto che il cloud salvi di continuo i vostri progressi e quello che state scrivendo basta che qua appunto mettiate il titolo della ricetta esempio e nel vostro dive ci sarà la ricetta esempio qua ci sono le vostre iconcine che vi spiegano che cosa sta succedendo al vostro documento perché ovviamente potete attivare anche l'utilizzo offline di documenti che voi create sul vostro drive non è l'opzione definita però in un'ipotesi in cui voi non siate connessi a internet se non avete Word avete solo Google Fogli o Google Doc non è che non potete lavorare perché non siete connessi a internet potete farlo attivando una funzionalità apposita che è questa qua in questo modo ovviamente lavorerete offline e quando vi riconnettete farà il salvataggio in automatico quindi tendenzialmente recuperate anche la funzionalità di non dover essere sempre connessi tornando sulla pagina vuota che è più semplice per vedere tutte le varie funzionalità che ci sono scusate intanto guardavo se ricevo indicazioni ma direi no allora tornando su tutte le funzionalità che ci sono voi avete un foglio che è esattamente come quelli di Word con qualche funzionalità in più qui intanto vi vi accompagna sempre un tutorial che è simile a quella clip che c'era su Word che si chiamava Clipsy Clapsy una cosa del genere che vi dava suggerimenti sull'utilizzo di Word su Google diciamo che avete una cosa analoga e avete un bel portale di formazione che vi permette di fare degli approfondimenti su ognuno di questi software io poi finisco di farvi la panoramica dei documenti e poi do a voi la parola nel senso che sto dandovi un'infarinatura facendovi vedere come funzionano ma mi dovete dire voi se uno si capisce cosa sto dicendo due se sono cose banali perché le avete già viste le sapete già e tre in che direzione preferite che approfondisca il discorso comunque tornando al doc voi avete la possibilità di usare sempre delle simpatiche scorciatorie per fare cose che sono compilazione automatica o sono note basate sull'utilizzo più frequente che voi fate dei documenti quindi questa è una riunione volete mettere in che data è stata fatta la riunione se c'era un evento del calendario se chi erano i partecipanti mettendo le varie email dei partecipanti le note e le attività che è una specie di checklist di che cosa bisogna fare che cosa viene fatto potete cliccare qui e in automatico vi genera prendendovi dal calendario l'appuntamento che avete messo sul calendario in alternativa ci sono altre scorciatoie se no avete un editor che è molto simile a quello di Word come vedete qui avete il titolo da mettere titolo esempio avete qui un primo menu con le varie opzioni in cui potete fare quello che volete cioè condividerlo scaricarlo rinominarlo spostarlo aggiungere scorciatoie buttarlo nel cestino vedere la cronologia delle versioni che è quello che vi dicevo che è uno strumento utile se state collaborando sul documento perché ovviamente potete vedere se qualcun altro l'ha modificato completamente il giorno prima e voi l'avevate lasciato dopo averlo scritto due giorni fa potete vedere come era la versione di due giorni fa e vedere quali sono le differenze tra una versione e l'altra evidenziate renderlo disponibile offline se volete lavorarci offline e poi vabbè dettagli lingua lingua è comodo per il correttore automatico tendenzialmente che funziona piuttosto bene perché è implementato con intelligenza artificiale detto ciò voi scrivete quello che volete titolo documento paragrafo introduttivo elenco puntato 1 2 3 allora qui stiamo facendo un documento continua a essere sempre salvato quindi non abbiamo bisogno di salvarlo in tempo reale da qua sopra possiamo condividerlo cosa vuol dire possiamo copiare il link e mandare il link a chi vogliamo su whatsapp su via mail o in qualsiasi modo oppure possiamo proprio condividere aprire una finestra in cui abbiamo un campo dove inserire le persone che vogliamo invitare a diciamo collaborare sul documento e possiamo decidere in che modo dare accesso a queste persone se io metto per esempio me stesso perché sono autoreferenziale metto me stesso ma con l'indirizzo di lavoro posso decidere se mettermi come visualizzatore cioè semplicemente quel documento non lo può vedere chiunque online lo può vedere chi ha il link ma lo può vedere basta commentatore che vuol dire che oltre a poterlo vedere non può modificarlo ma può commentarlo quindi può scrivere questa frase non mi gira secondo me qui va spiegato meglio tipo revisore di bozze oppure proprio editor nel caso proprio di editor può cambiare tutto quello che voi avete scritto nel mandare questo invito voi scrivete quello che volete perché si trasforma in una mail di gmail e quindi dite sto scrivendo il racconto delle mie vacanze facendo finta che sia fantascientifico hai voglia di scriverlo insieme a me ti metto editor così puoi cambiare quello che vuoi sentiti libero invio chi riceve quella mail ha il link e può fare quello che vuole sul vostro documento e adesso ovviamente essendo da solo non lo faccio però qui avete il vostro documento e non entro nello specifico di queste varie funzionalità salvo che non me lo chiediate perché sono molto simili a Word e sono abbastanza diciamo autospieganti cioè nel momento in cui voi andate sul formato della pagina e decidete stili di paragrafo oppure l'interlinea quindi la distanza tra le linee oppure le colonne se volete fare la pagina con un'unica colonna come è di solito o due o tre o impostazioni diciamo più personalizzate e le varie cose che potete fare di base le leggete e le applicate o facciamo proprio un corso solo su questo e quindi vediamo tutto nel dettaglio oppure lo rimanderei un po' ai vostri esercizi qui il concetto è che ovviamente ci sono anche degli stili preimpostati se io per esempio metto titolo sul titolo del documento paragrafo introduttivo decidiamo che è un'intestazione facciamo un'intestazione di secondo livello e poi questo è un paragrafo e questo è un elenco puntato vedete che io sto abbastanza rapidamente mettendo le varie impostazioni grafiche e si sta creando anche un menu di struttura che è un'altra cosa molto comoda che vi fa Google Doc perché se voi scrivete un lungo testo andate avanti e e volete fare diciamo un un documento navigabile che è una cosa che con Word è un po' più complicata se voi date come impostazione dei titoli non solo indicazioni grafiche quindi faccio un esempio mettere grassetto mettere sottolineato ma mettere proprio la funzione che ha quel testo lì quindi titolo e le funzioni hanno delle caratteristiche loro a seconda del layout ma questo è una cosa che vediamo fa un attimo in questo modo avete qua di fianco una corrispondenza della struttura quindi io metto intestazione qua intestazione qua e di qui ho direttamente un elenco che mi porta come un indice alla sezione corrispondente è comodo se fate dei documenti lunghi ora mi stoppo perché sto andando sul pratico ma anche molto sul difficile da seguire se non avete avuto esperienza voi direttamente chiederei a voi se avete mai usato intanto google doc se qualcuno l'ha mai usato no avete usato word però suppongo in passato riconoscete abbastanza che è la quella che si chiama per usare termini marketing la user experience è la stessa è abbastanza simile perlomeno per cui avete anche qua i vostri menu in alto che potete modificare che cosa vi interessa di più approfondire come utilizzarlo dal punto di vista delle personalizzazioni grafiche preferite rimanere invece più sul generico come sto facendo muoverci su fogli vedere come funziona fogli ditemi voi se puoi stabilire a priori le dimensioni dei calateri gli intervini eccetera in modo che ogni documento venga sempre giù sì allora quello è una cosa che si può fare che è creando le come si chiamano sì creando quello che è su order al modello che vuol dire dare delle caratteristiche agli stili che vuol dire che bisogna mettere su ogni stile delle impostazioni grafiche e salvarle come stile quindi per esempio io decido che il titolo abbia una dimensione 18 un font impact e non so un colore rosso una cosa fine fine decido che questo è il titolo e li metto aggiorna titolo perché corrisponda tutti quelli che erano contrassegnati come titoli diventano così quindi io ho messo uno stile al titolo se adesso scriverò un altro testo a caso e gli darò di nuovo come indicazione che è un titolo verrà così e addirittura qua in anteprima si vede il titolo per l'impostazione in generale del documento tipo appunto il layout modalità no qui sono le varie modalità anche per aggiungere i commenti eccetera vado sul formato e anche sul formato posso aggiungere sull'interlinea quale interlinea voglio e dove aspettate un attimo interlinea 1 e 5 vabbè poi vedete qui per esempio che ci sono delle piccole interfacce grafiche che vi permettono di fare delle cose che su Word normalmente non ci sono perché sono legate al al fatto che siano strumenti collaborativi cioè voi potete aggiungere su questo testo delle reazioni che è una roba che vabbè tipo ah sto pezzo è bellissimo ci rido su e ci lascio questo per cui tutti gli altri che vedranno vedono che l'utente Vagnone ha messo una faccina che ride su questo testo qui utile fino a un certo punto ma è la cosa bella che poi gli altri possono commentare la faccina con altre faccine per cui arriviamo a livelli notevoli di intelligenza detto ciò detto ciò però possiamo anche fare altre cose un po' più utili cioè suggerire delle modifiche adesso l'interfaccia che mi taglia se in modalità suggerimento suggerisco che invece che elenco puntato si metta elenco puntato alto basso invece che tutto minuscolo e basta cioè che facciamo la prima maiuscola invece che farlo tutto in minuscolo metto così e me lo sono auto approvato scusate se lo lascio così gli altri vedranno che io suggerisco questa modifica nel momento in cui un altro di quelli che collaborano sul documento metterà accetta suggerimento quel suggerimento verrà preso e verrà applicato al testo se invece voglio commentare senza aggiunta di questo tipo posso mettere intanto posso taggare la persona specifica a cui voglio mandare il commento quindi anche in questo caso sempre me stesso metto a me stesso ti piace questo passaggio cosa succede? posso assegnare il commento in modo che la persona che ho taggato qui sia l'unica che può risolverlo tra virgolette quindi non so state facendo una ricetta di del vitello tonnato voi di solito fate l'arrosto del vitello e c'è un vostro amico che fa la salsa tonnata avete deciso di gestire questa produzione di vitello tonnato con un documento di ricetta condiviso su google doc è improbabile ma facciamo un caso ipotetico lo coinvolgete perché avete messo i quantitativi degli ingredienti per la salsa tonnata di cui non vi occupate voi e quindi mettete un commento taggando il vostro amico che si occupa di fare la salsa tonnata dicendo risolvi tu questa parte e affartuo commenta modifica e quindi assegnate a questa persona nel commento ovviamente questo documento io non l'ho ancora condiviso con nessuno nel momento in cui taggate qualcuno google vi dice sì però questo qualcuno che avete taggato il vostro documento non lo vede ve lo condivido con questa persona come? come commentatore perché gli avete chiesto di risolvere il commento potete definire come editor quindi che di nuovo può sostituire i testi oppure addirittura si può decidere in qualsiasi momento di consentire a chiunque abbia il link di commentare o di editare questo vuol dire che voi potete fare dei file che chiunque sulla rete arrivi al vostro link e quindi al vostro file che diventa pubblico può fare quello che vuole ovviamente non è consigliato salvo che non ci sia qualche motivo per cui dovete collaborare con molte persone non sapete bene come coinvolgere se non mettendo per esempio mi viene in mente non so abnut decide di fare un documento in cui tutti scrivono un articolo non si sa bene l'elenco di mail di tutti gli iscritti all'abnut c'è un gruppo o una newsletter in cui vi scrivete mettete lì il link pubblico dove chiunque voglia può editare e non c'è il problema di creare le singole condivisioni quello può essere un esempio se no appunto potete schizofrenicamente decidere di non concedere l'accesso anche se avete chiesto a qualcuno di commentare nel qual caso non penso ve lo faccia fare sto provando ma l'ha fatto fare vabbè nel senso che la terza opzione è non concedere l'accesso alla persona a cui avete richiesto il commento verificherò che cosa succede perché ovviamente non l'avevo mai provato in questo caso scusatemi non mi sono portato dell'acqua in questo caso appunto spunta il commento fatto così e voi potete approvarlo e vabbè io che l'ho fatto posso eliminarlo gli altri potranno rispondere quindi aggiungere un altro commento al commento eccetera eccetera e avere tutta una serie di riflessioni e analisi sul documento che state facendo questo in generale diciamo che è l'estensione collaborativa di quello che era Word usando Google Doc mi sposto su fogli intanto poi vi lascerei un po' di spazio alle domande per se qualcuno ha domande da fare mi piacerebbe per riuscire a prendere una direzione che vi interessi su Google Doc su Google Fogli invece che è il corrispettivo di Excel avete anche qui una serie di modelli che sono modelli tendenzialmente di impostazione grafica ma che sono utili per esempio per avere impostate le checklist o per avere già lo sviluppo dei grafici chi di voi ha usato Excel sa che è un programma che da 0 a 100 ha utilizzi di livelli varissimi nel senso che tutti sanno aprire Excel e usare Excel per esempio per fare un elenco puntato o per organizzare l'elenco dei libri che hanno nella loro biblioteca nella loro libreria in casa perché lì semplicemente uno ha le righe alle colonne decide di mettere il titolo l'autore e lo scaffale nella prima riga si organizza tutto mentalmente nelle colonne fa quello è un programma carino divertente da lì a fare dei pivot di calcolo in cui ci sono diversi fogli in cui si mettono dei dati che vengono calcolati e sviluppano un grafico su una pagina complessiva di analisi delle informazioni c'è un mondo in mezzo di capacità di utilizzo di Excel addirittura si possono fare delle macro cioè delle specie di applicativi web fatti con Excel quindi Excel è un programma che in realtà è molto professionale anche se la gran parte delle volte viene utilizzato a livello base diciamo che se voi vi immaginate l'utilizzo più professionale che io in prima persona non ho mai fatto di Excel Google Fogli è ancora un po' indietro perché non ha tutte quelle caratteristiche di possibilità di calcolo ordinamento filtri che ha Excel per un utilizzo diciamo base o medio invece è perfettamente in linea voi aprite la vostra pagina e di nuovo vi trovate in un'interfaccia che è abbastanza simile a Excel addirittura se notate proprio la finezza Fogli ha un'icona azzurra e Word ha un'icona azzurra Excel ha un'icona verde e Fogli ha un'icona verde per cui cerchiamo non è plagio sono due aziende completamente diverse ma diciamo che ci si ritrova abbastanza facilmente a livello di impostazioni grafiche anche qui funziona come come doc cioè potete mettere elemento 1 elemento 2 elemento 3 bla 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 potete mettere i vostri grassetti cambiare i colori mettere quello che volete scegliere gli stili che ovviamente non sono più come dall'altra parte titoli sottotitoli perché su Excel non ci sono i titoli i sottotitoli qui ci potete mettere non so diciamo prezzo 1000 2300 e poi potete fare tutte le cose che potete fare su Excel mettendo uguale avete le formule ve le suggerisce già lui per esempio in questo caso io mi sono messo sotto questa colonna dove ci sono tre numeri e mi suggerisce di fare una somma diciamogli di sì e mi fa la somma del 3300 se no ovviamente potete decidere voi di fare le formule che volete questo anche è un discorso che è più relativo all'utilizzo di di Excel che non di fogli quindi anche su questo ditemi poi voi se volete approfondire diciamo che per usare bene Excel e bene fogli ci starebbe tutto un corso di lezioni come stiamo facendo su Excel e dovrei prepararmi molto meglio di come non sono preparato perché anche io Excel lo uso un po' come project management o per fare i calcoletti in questo senso oppure per esempio non so l'elemento 2 lo compro tutti i mesi voglio sapere quanto spendo in un anno gli metto uguale apro la parentesi metto 2000 per 12 che sono i mesi dell'anno chiudo la parentesi mi fa il calcolo per cui formule molto 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 basic se volete andare sulle formule più complesse ovviamente si può fare ci sono tutte le funzioni possibili immaginabili ci sono per esempio i i grafici voi potete da queste tre da questi dati creare un grafico adesso mi devo ricordare come si fa per esempio prendo il grafico così e mi prende l'elemento 1 elemento 2 con grafico a torta usa la colonna A per le etichette vuol dire che dalla colonna A si prende i nomi di uno dell'altro ovviamente qui essendoci un dato così elevato rispetto agli altri quasi tutto il grafico a torta riguarda quello se io già per esempio ci tolgo il per 12 me lo fa più equilibrato e vedo la divisione però questo è per esempio per fare un grafico una cosa molto utile che a voi interessa relativamente ma ve la dico a scopo informativo che vi permette di fare fogli di google è che per esempio se voi state tracciando dei dati di campagne di marketing che state facendo su google analytics o sui social che sono quelle di cui parlavamo l'altra volta e avete tutti i dati che vi arrivano potete fare in questi campi che si importi direttamente dalle altre app di google i dati e quindi per esempio io che ho il cliente che mi dice spendimi 1000 euro di cui 500 su google ads e 500 su facebook per esempio e voglio un report tutte le settimane di com'è andata io qua mi faccio arrivare le informazioni di google ads metto io a mano quelle di facebook ho il grafichino che mi si aggiorna in automatico di come stanno andando le campagne a seconda di come l'ho impostata e ho una dashboard che è interattiva è utile e si fa molto in fretta mentre se dovessi farla a mano ci metterei molto di più non è una cosa che penso utilizzate nella vostra vita di tutti i giorni ma è per darvi un altro elemento a favore di questo foglio rispetto ad excel quindi posso incollare con l'excel la risposta è c'era un comico che diceva la risposta è dentro di te però è sbagliata la risposta è sì la risposta è assolutamente sì questi file che noi stiamo facendo sia doc che excel chiamiamoli pure excel si possono sia importare che esportare con diversi formati io per esempio questa cosa che ho appena fatto la voglio scaricare la posso scaricare in excel quindi con lo stesso formato di excel quindi me la apro con excel e ha tutte le stesse caratteristiche con open doc che è quell'altro che avevo fatto vedere all'inizio gratuito che è la versione free di cioè non free che è la versione community open source di office e quindi me la vedo così in pdf che vuol dire che non sarà editabile ma mantiene la stessa impostazione come se fosse stampato che voglio io come pagina html e di solito viene una schifezza però salva come codice html il file su cui sto lavorando e poi per chi usa un po' di più excel e sa che cos'è il csv anche come csv csv è un formato di excel che non è il classico xls o xlsx che sono i formati di excel è un formato che non ha le colonne ma ha le virgole cioè ha i dati divisi in virgole serve per far parlare tendenzialmente excel ai database perché quelle informazioni formattate in quel modo sono poi più facilmente interpretabili da altri linguaggi che non sono excel ma sono che ne so il database mysql di un sito poi anche lì non è una cosa che probabilmente farete quotidianamente però c'è la possibilità di esportarlo anche così nello stesso modo come c'è la possibilità di esportare come excel si può anche importare come excel qui non ne ho sul drive basta prendere un excel che adesso non ho pronto e anzi forse uno ce l'ho qua ecco qua ho giusto un excel lo trascino qua non succede niente un grande perché devo fare carica perché ha sempre ragione nel computer purtroppo se vado su carica e non sul mio drive che si aspetta che io gli carichi un file ci metto il file se lo mangia creo un nuovo foglio di lavoro importando i dati quindi sono partito da un excel lo apro e ho l'excel su google fogli quindi si può aprire facendo semplicemente quello Word è compatibilità Word no allora il discorso in realtà è lo stesso anche su fogli si può importare anche nell'altro si può importare il grosso problema di Word sono come si chiamano il codice che mette per gli stili che per esempio è una cosa che si nota tantissimo se voi fate un copia e incolla da Word e lo mettete su un sito tipo un Wordpress o un sito dove abbiate un editor dove potete incollare un contenuto quando poi lo pubblicate e lo salvate esce un sacco di roba che voi dal documento di Word non vedevate che sono indicazioni sullo stile sui font su una serie di cose che di solito danno fastidio agli altri programmi anche anche ovviamente con Google Doc non è proprio immediato che vada sempre tutto liscio una prima alternativa è fare copia e incolla che tendenzialmente viene meglio ovviamente dipende da qual è il test origine cioè se il test origine è un Word di 2300 pagine con tabelle grafici e immagini incollate il suggerimento magari aprirlo ma poi ve lo dovete rivedere tutto perché magari le immagini si sono spostate di una pagina e l'impaginazione è saltata e simili se sono documenti più brevi di solito non ci sono problemi se sono documenti brevi ma con tante differenze tipo appunto immagini tabelle simili per essere sicuri dovreste fare scoppiare a parte cioè non tutto non fare seleziona tutto copia e incolla perché così vedete non so copiate la prima pagina incollate la prima pagina controllate fate la stessa cosa con la seconda pagina e andate avanti ovviamente è lunga e dipende da che documento dovete rielaborare stesso discorso cioè tendenzialmente se lavorate su un software è meglio finalizzare la cosa con quel software lì fino al pdf perché poi nel momento in cui il documento è concluso se volete inviarlo condividerlo o utilizzarlo vi conviene sempre salvarlo in pdf perché col pdf che sia fatto con word che sia fatto con doc che sia fatto con open office il pdf quello è e quello resta quindi chiunque lo visualizzi lo visualizza impaginato nello stesso modo e quello è un problema perché sono formati aperti addirittura quando bisogna fare proprio delle impaginazioni un po' precisine perché si vuole fare per esempio un bollettino con word e invece di usare un programma di grafica si usa word come viene interpretata l'immagine che viene messa per esempio nell'intestazione che quindi resta sul retro rispetto per lì sarebbe su come se fosse su un livello dietro al testo che c'è nel corpo della pagina quello salta abbastanza sempre perché o viene interpretata come immagine sullo stesso livello del testo o sballa nel senso che il testo ci finisce sopra è comunque sempre abbastanza difficile tenerla nella posizione giusta pdf una volta che voi esportate il pdf e lo vedete in un modo sapete che chiunque apre quel pdf lo vede nello stesso modo perché proprio il pdf è nato con quella funzione lì cioè è nato con la funzione di essere visto nello stesso modo da qualsiasi dispositivo o qualsiasi programma in teoria se io faccio un word appunto precisino con una cosa grafica complicata e lo faccio su word di mac e me lo apre uno che ha word più o meno sempre 365 quindi stessa versione su un windows non è detto che veda esattamente la stessa formattazione quindi a maggior ragione chi utilizza doc di google invece che word può sballare facilmente il risultato un trucchetto se voi usate whatsapp che è proprio un trucchetto base 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 se volete fare un copia e incolla pulito da word e avete whatsapp desktop sul computer se voi prendete un testo di qualsiasi lunghezza da word fate copia lo incollate in whatsapp come se doveste mandare un messaggio a voi stessi o a qualcun altro lo incollate lì non lo spedite lo ricopiate e lo incollate dove volete avete pulito tutta la formattazione è un modo rapido per togliere tutti gli tutti gli stili di word simili che incolla solo testo si si può fare è un po' più sì ci sono incolla senza formattazione per esempio è la stessa cosa e dovrebbe andar bene sì sì quali sono i vantaggi e i vantaggi del mio di quello allora open office io l'ho usato un po' poi rispetto open office ho sempre preferito office nel senso che banalità però il modo predefinito di salvare un doc è ODT è il formato ODT quando uno riceve il formato ODT se non sa che cos'è open office e succede spesso non riesce ad aprirlo e ti riscrive e ti chiede che cos'è sta cosa i cellulari tipo su whatsapp non sempre riescono ad aprire l'ODT e quindi cioè poi in realtà è una cosa che con un accorgimento molto banale che nel momento del salvataggio dire il formato in cui bisogna salvare si risolve però di default fa quello la grossa differenza è semplicemente che uno è un programma installato sul computer e l'altro è un applicativo in cloud per cui i pro e i contro sono quelli lì il pro di open office è che sul proprio computer si può installare la parte della suite che interessa quindi magari anche solo non è Word come si chiama non mi ricordo comunque solo il corrispettivo di Word si utilizza quello si salva sul proprio computer si può salvare il PDF anche in quel caso lì e resta tutto sul computer ovviamente invece con Google Doc finisce tutto su cloud quindi è quello è il grosso discrimine come funzionamento ma è una questione di abitudine sono un pochino più abituato a Google Doc perché fa tutta una serie di cose che sono pensate per la collaborazione che poi mi risultano utili anche se lavoro da solo tipo banalmente questo indice di struttura che sui documenti che su OpenOffice si può fare ma si deve fare come sommario quindi è come su Word non viene in automatico bisogna creare sommario dare anche lì gli stili come qui ai vari titoli e poi fare genera sommario aggiorna sommario tutte le volte che se ne modifica uno mentre qua in tempo reale è un pochino più macchinoso trovo però lì penso sia proprio una questione di abitudine e se si preferisce stare su un dispositivo singolo oppure in cloud è una domanda su cui googlerò perché io non ho un Windows da tanto tempo e non so rispondere quindi Windows 11 App Office sono presenti gli app di Office ma un'app è una serie di Office e come l'applicazione di OneSele che si potrebbe diciamo installare l'organizzazione allora da quello che mi dice l'internet se capisco bene allora sull'icona Word di Microsoft o altra icona di Microsoft 365 Office su Windows 11 si parte con un'installazione però poi chiede una licenza cioè è preinstallato no no so che l'altro con delle app se tu stavi se tu mi stai sull'icona sull'icona vedrai che ci sono le altre app di Excel da con ci sono la stessa cosa o una suite in vera ce l'ho anche qua su no allora Microsoft ha diversi pacchetti io adesso non so dire la seconda della versione di Windows quale pacchetto preinstallato c'è io per esempio qua ho un Windows che è un piano professionale con con la società per cui lavoro con la licenza e ho l'app sul mio desktop di di Word non è Word 365 è un'altra versione versione 1685 di Microsoft Word per Mac ci sono una serie sì diciamo che su su Mac è più difficile distinguere perché sono tutte che sembrano delle app sono tutte dell'applicativo non è uno store vero e proprio quando installo un programma lo visualizzo come un'app di come così ho l'icona mi parte il programma e lo vedo però in realtà quello cambia relativamente cioè il concetto è che sia preinstallato o no e quale tipologia di pacchetto di offerta di office si utilizzi ci vuole poi una licenza tendenzialmente a pagamento per esempio con alcuni sistemi operativi Windows o con alcuni computer assemblati includono non so due anni di licenza per Windows e i programmi e in quel caso lì uno ovviamente non si fa la licenza perché ce l'ha già preinstallata però è comunque esistente il fatto che ci voglia una una chiave di 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 abilitazione del programma per cui ho un po' sviato la domanda perché non sono troppo pratico di Windows e no comunque per esempio qua però è utile perché vi faccio vedere come come l'interfaccia su Mac quindi su Windows ancora un po' diversa di di Word c'è più grafica ci sono più opzioni visibili rispetto al al Google Doc però tendenzialmente vedete che è simile cioè voi qua sopra avete un menu con tutte le opzioni di di formatazione dei caratteri e dei paragrafi esattamente come ce l'avete qua sul telefono viene così più piccolo sì nel senso che sul telefono anche avete anche qui non condividendo non è il massimo però se apro poi vedemi per questo la visualizzazione faccio vedere se invece apro diventa difficile farvi vedere però per esempio ho aperto lo stesso documento da qua non vedete nulla ovviamente ma non so come c'è questa icona qua dell'editing ah ok che ha dei comandi c'è una funzione di quella che si chiama speech di text sì bravo bellissimo punto allora strumenti esiste il dettatura digitazione vocale che effettivamente è una cosa di cui non stavo parlando ma è molto comoda ora non è abbastanza ancora a livello da dire faccio una registrazione di una riunione rimetto la registrazione lui se la ascolta e se la scrive però possiamo fare una prova pratica io mi metto qua sposto questo e dico facciamo una prova pratica di dettatura così vediamo come funziona la dettatura su google doc funziona bene e poi si interrompe no importarlo non c'è ancora la funzionalità deve ascoltarlo e seguire la dettatura ci sono altri sistemi di intelligenza artificiale che sono dei portali su cui si può caricare un file audio per quel che mi risulta al momento solo a pagamento perché avevo cercati per sbobinare riunioni ma tendenzialmente per poter importare proprio il file audio e restituire un testo sono abbonamenti a pagamento o a lunghezza del file audio per cui l'accrocchio che si può fare è quello di mettere non so dal cellulare la registrazione al massimo del volume e il microfono attaccato perché trascriva però sì in realtà è comodo nel senso che si può utilizzare per sgrossare un po' dei contenuti lunghi bisogna dettare un po' lentamente perché sennò fa pasticcio e anche sulla punteggiatura in teoria si può dire punto a capo e simili ma non sempre lo prende e quindi scrive punto a capo e va riletto quindi anche questa funzionalità sì che non c'è su fogli ovviamente però su fogli che cos'altro vi posso dire di interessante ma si riconsiderate che in generale stanno integrando sempre di più strumenti di intelligenza artificiale sulla Google Suite e tendenzialmente la cosa dovrebbe tradursi nel tempo con semplificazione delle funzionalità più complesse quindi se per esempio su fogli voglio fare dei calcoli un po' articolati o delle formule un po' articolate potrò spiegargli il risultato che voglio invece di dover sapere la formula dovrebbero migliorare tutti i sistemi di dettatura e di queste cose qua e dovrebbero migliorare le correzioni automatiche le traduzioni e tutta questa serie di aspetti su sulle funzioni sulle macro sugli app cioè sulle possibili estensioni già adesso si possono installare dei componenti aggiuntivi che vuol dire far fare delle cose specifiche al come si dice a a foglie o a tutta la suite di drive per esempio nell'organizzazione di liste si può utilizzare molto chat gpt perché se io ho un testo che copia e incollo su chat gpt da cui deve strarre non so i nomi e i cognomi e ordinare i nomi e cognomi in ordine alfabetico e restituirmeli come tabella su excel lo fai in un secondo chat gpt e non devo mettermi io a fare tre ore di copia e incolla sì cioè quello è abbastanza comodo poi dipende molto appunto dalla specifica esigenza che uno ha ovviamente il grosso degli strumenti sono un po' indirizzati al marketing digitale quindi più su cose di mail seguire le risposte delle mail seguire il tasso di conversioni e cose così che interessano meno come utilizzo personale ma c'è un po' più di sviluppo perché servono di più dal punto di vista lavorativo e poi invece vi anticipo un qualcosina della prossima lezione così poi continuiamo con gli approfondimenti su questo simpatico mondo di google diciamo che l'altra app o l'altro software molto utilizzato su su office è powerpoint anche in questo caso vedrete che lo vediamo la prossima volta anche se lo potrei esaurire a livello alto molto in fretta c'è un programma che praticamente funziona nello stesso modo anche qua avete un file potete fare una nuova presentazione avete una galleria di modelli li personalizzerete esattamente come nessun modello è sempre il suo discorso generale avete tutta una serie di modelli preimpostati da cui partire potete farli voi ex novo ma di base avete un altro programma per fare le presentazioni questo si chiama presentazioni con grande originalità presentazioni se no c'è poi ecco questo qua vi dicevo sites che non vedremo ma serve per fare siti moduli serve per fare questionari di base e anche questo lo vediamo la prossima volta se vi può interessare un po' di più che può essere un feedback sull'evento non so l'avnut organizza una serie di corsi sull'informatica e alla fine i partecipanti vengono invitati a dare un livello di soddisfazione su come è andata l'ultima lezione o tutte le lezioni in quel caso voi potete compilare potete definire quali siano le caratteristiche compilabili eccetera allora questo moduli mi sembra di no cioè fino a powerpoint si moduli no e anche sites in realtà c'era front page mi sembra si chiamasse c'era un programma della sempre della suite di office per fare html perfetto e publisher serviva proprio per le pubblicazioni tipo i volantini e cose così si poteva anche poi esportare in html però potenzialmente anche da word si può esportare in html e ce n'era proprio uno apposta per i siti che mi sembra fosse front page ma non mi ricordo bene il nome in quel caso lì sì c'era invece non mi sembra che ci fosse una cosa proprio apposta per i moduli questo è fatto per creare delle pagine web creare il tuo sito con il fatto che ovviamente google vi vende anche l'hosting i domini eccetera quindi a un certo punto comincia a dirvi vuoi mettere il tuo dominio e potenzialmente vi potete fare un sito voi se no lo salva in box cioè non lo pubblica accessibile cioè per pubblicare accessibile bisogna comunque poi collegarlo a un dominio un sito sì ha l'url in realtà del progetto cioè come se io condividessi il link di questo pubblicamente tutti possono arrivarci la stessa cosa si può fare anche per il site quindi è raggiungibile però un url non linearissimo con tutto che in realtà si può impostare come dns cioè se voi vi comprate un url del non so il mio progetto punto it lì potete mettere l'ip del vostro sito fatto così e quindi dal mio progetto punto it arrivate al sito fatto così quindi è un modo economico di fare i siti però in realtà cioè su questo non pensavo di farvi un approfondimento perché ci sono altri sistemi che sono più intuitivi banalmente c'è Wix che è un altro sistema per costruire siti però che è molto user friendly più di Google Sites oppure c'è WordPress che è un pochino più professionale e vi dà le possibilità anche lì tipo Excel di partire da zero e fare una cosa molto semplice a cento e fare il portale della pubblica amministrazione con tutti i requisiti che devono essere rispettati di come dire di accessibilità e quant'altro con funzionalità evolute quindi WordPress è quello più flessibile che di solito io utilizzo quando facciamo dei siti e poi ce ne sono tutta una serie di altri a seconda che sia un e-commerce ci sono Magento per Estashop se invece è un sito vetrina a parte Wix che funziona benissimo ci sono non so Drupal le istituzioni comunque lì è tutto un altro mondo e non sono preparato per spiegarvelo cioè posso spiegarvelo ma temo di perdervi ancora di più che non su Google Suite altre curiosità o domande qui più o meno è chiaro nel senso che se voi voleste mai fare esercizio a casa con una Gmail potete andare qua su Google Doc già adesso e lavorarci non vi ho potuto fare vedere l'app come vi cercavo di accennare avrete nella parte alta vedete che cosa succede qua vedete che viene fuori il mio nome è perché io sto modificando dal cellulare quindi visto che io sono anche connesso dal computer il computer mi dice che c'è un'altra persona se io scrivo ciao sono sul cellulare mi viene scritto anche sul computer perché il documento è lo stesso io sono sempre loggato come stesso utente se fosse una terza persona succederebbe la stessa cosa poi ovviamente l'interfaccia per avere tutte le impostazioni di grassetto eccetera ci sono anche sul cellulare sono diverse visivamente che non su su desktop però se volete esercitarvi volete condividermi file potete aprire nuovi documenti o nuovi fogli e invitare bagnone chiocciolagmail.com a collaborare e non so bene cosa fare se non me lo scrivete voi ma volentieri entro nei vostri documenti e vi metto un commento e vi dico bravi lo state facendo nel modo corretto e se no mi dite voi su cosa posso esservi utile a Grazie a tutti.